È stato un evento che ha avuto un grande successo, io sono ovviamente più uomo di magia che di numeri. A me piace pensare che ci sia anche un tasso emozionale. Diciamo che la città è stata in basa, conquistata dalla magia, è un mood che sta funzionando. Quest'anno l'obiettivo è di fare un congresso ancora più grande, ancora più importante, e quindi trasformarlo da un congresso di maghi con grandi risultati, con più di 1500 maghi a tutto il pianeta, con più di 100 ore di spettacolo, trasformarlo nel più importante festival di magia del mondo, che sia però non soltanto legato ai maghi, ma che sia diffuso su tutto il territorio. Quindi contaminare per una settimana e poi magari a crescere negli anni per molto più tempo, quindi per tutto l'anno, Torino di magia, anzi di arte magica, di prestigio, di illusionismo e soprattutto di sogni. I numeri sono dei numeri sicuramente positivi, parliamo di circa 2 milioni di ricadute, che sono ricadute direttamente sul territorio, di spese per allestimenti e tutto. Quindi quello che si è riuscito con questa manifestazione è aiutare le imprese del territorio a essere coinvolte nella preparazione dell'evento. Questa è stata una cosa positiva. Secondo un dato che è molto interessante è che la metà dei delegati, quasi almeno, 40% dei delegati arrivano da fuori, non erano mai stati a Torino, e hanno voglia di ritornare. Questa è una cosa che è importante perché è veramente un elemento di promozione del territorio. E' per questo che abbiamo deciso di reinvestire e dare più tempo anche agli organizzatori, sia per la prossima edizione che quella dopo ancora, su un programma biennale. Si tratta di un turismo che permane in città in media 4 notti e spende al giorno 135 euro circa, tra ovviamente albergo, ristoranti, spese sul territorio. Si tratta tra l'altro di turisti che già conoscono Torino perché più del 50% di loro era già stato in città e nonostante questo è intenzionato a ritornare in futuro, per cui le potenzialità che un turista di una convention professionale si trasformi in seguito in un turista vacanziero, leisure, è estremamente significativa per questo tipo di evento. Appuntamento per il 2020, abbiamo già un cast incredibile, abbiamo già tantissime prenotazioni, stiamo soltanto aspettando di dare via ufficiale a tutto. Siamo a Rimo alle OGR, quindi portiamo da Venaria, lo portiamo nel cuore di Torino perché ovviamente i maghi possono vivere al meglio Torino e perciò stare con noi come prestigiatori per imparare nuove magie e poi portare la magia di tutto il mondo nel cuore della città.